durante il suo ultimo caso che cosa è successo con navarro il caso willer dopo non c'è più lavorato va bene una favola della buonanotte fu un omicidio suicidio william willer un bastardo figlio di puttana violenza sessuale rapino a mano armata aggressioni e percosse un po' di volte al fresco l'ultima volta che uscì si mise con una diciottenne la picchiava forte la mandò all'ospedale due volte braccio rotto mascella spaccata e altre cose andammo a casa sua un po' di volte lei non denunciava lui diceva sempre la stessa cosa era ubriaca gente è caduta dalle scale a gente sapevamo che finiva male non potevamo farci niente poi arrivò una chiamata ma era troppo tardi l'aveva uccisa e lui si era sparato quando arrivamo erano morti navarro non la mandava giù era convinta che c'era qualcosa che avremmo dovuto fare se la prose con me ovviamente la cosa degenerò poi lei fu trasferita e fino alla storia